Due giorni targati Fondo Ambiente Italiano per riscoprire pezzi importanti del patrimonio di Giovinazzo, l'Istituto Vittorio Emanuele e la Torre Rufolo, quest'ultima gioiello attualmente gestito in convenzione con il Demanio dal Consorzio di Produttori d'Olio Olivetti d'Italia. La torre, costruita nella seconda metà del Trecento, non del tutto recuperata, è legata alla produzione dell'olio ma diventerà un luogo di diffusione della cultura alimentare, artistica, turistica della terra di Bari con al centro l'olivicoltura. È stato un impegno importante e difficile in cui abbiamo avuto la fortuna di incrociare le istituzioni intelligenti nella prima fase. Abbiamo recuperato questo che è uno dei beni più belli che abbiamo in Puglia sulla cultura dell'olio, sulla storia dell'olio, su quanto l'olio fosse fondamentale tanti anni fa. Abbiamo fatto gran parte del recupero, aspettiamo la nuova programmazione regionale e i nuovi interlocutori regionali per completare l'opera e per dare alla terra di Bari un luogo fisico per la promozione, la comunicazione e anche la cultura collegata alla nostra grande storia. Ringraziamo il FAI per aver voluto individuare questa struttura nei percorsi della giornata del FAI perché sicuramente c'è un riconoscimento e speriamo che anche con loro di poter riuscire a fare l'ultimo passo, che è quello di costruire un nucleo di giovani, di ragazzi, di persone, di professionisti che possano essere a disposizione della comunità pugliese e delle scuole per comunicare cosa eravamo e cosa possiamo ancora essere.